E' un'altra marchetta nuova su un libretto d'Avenzione. Su! 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 Vuoi che venga sopra io? Non ce la faccio in discesa, figuriamo senza l'ira. Ehi, te ne sei venuto o te ne sei andato? Ma sono seduto. L'elettrocardiogramma parla chiaro, cari colleghi. Si prevede una paralisi progressiva al lato sinistro. Non sono d'accordo. Perché se il tracciato non mi inganna, la paralisi insorgerà nella parte destra. E io sostengo che colpirà il lato sinistro. E io insisto e colpirà il lato destro. Sinistra. Destro. Sinistra. Destro. Il lato sinistro. Destro. Sinistra. Oh, 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 vuoi di mettere d'accordo? Sinistra, destra. Sto povero pisello mio mi lo fate diventare un tergicristallo. Sto povero pisello mio mi lo fate diventare un tergicristallo. Sto povero pisello.